Al via le celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, concerto al Teatro dell'Opera con il Presidente Mattarella accolto da un lungo applauso e la Sindaca Raggi sia la città di tutti, periferie segnate da troppe miserie e solitudini. Questo il senso del messaggio inviato da Papa Francesco. Nadia Zikoski. Cominciano da qui, dal Teatro dell'Opera e dal lungo applauso che accoglie il Presidente Mattarella ai 12 mesi che Roma dedicherà alle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale. 3 febbraio 1871, a pochi mesi dalla breccia di Porta Pia, la capitale del Regno d'Italia trasloca da Firenze a Roma, determinando di fatto la fine dello Stato Pontificio. Il messaggio del Papa alla città arriva con la voce del Cardinale Parolin, associa i passaggi più drammatici e significativi della sua storia, a cominciare dal rastrellamento del ghetto, con una raccomandazione. Assumere il ricordo del passato spinge a vivere un futuro comune. Roma avrà un futuro se condivideremo la visione di città fraterna, inclusiva, aperta al mondo. Tra passato e futuro c'è la Roma del presente, così come la vede la Sindaca Virginia Raggi. Roma è una città accogliente, Roma è una città internazionale, Roma è una città aperta a tutti e lo sarà sempre. Tanti gli omaggi alla capitale, nella musica e nei versi degli artisti che si alternano sul palco e si intrecciano fra loro fino a tornare alle parole di Papa Francesco. Tra le spade e i fucili degli popoli civili. Il capo dello Stato ascolta restituisce gli applausi in un giorno in cui ricorre un altro anniversario, i cinque anni della sua presidenza. Londra, l'Isis rivendica l'accoltellamento di due... Grazie. 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 Grazie.